Ciao ragazzi, giornalamento del negozio oggetti, la è Cozzo, andiamo a vedere subito cosa è uscito. Nuova sezione Marvel, nuovo bundle, trattarughe ninja, nuovo bundle, nuove tracce jam, un altro bundle, delle skin, una skin che invece io aspettavo da tantissimo tempo e poi niente più, andrà in cima per guardare tutto più. Nel dettaglio, sezione Marvel, Mary J. Watson, l'altra è quella di Zendaya, MJ, quindi solo due, questa secondo me è più carina, appartiene a un altro universo, a un altro Spider-Man, cioè lo zenetto che poi è anche strumento musicale, no, è anche piccone, non so se lo tira fuori dalla schiena, penso che sia su equipaggio in Rhyme, la ragno chitarra come del separativo, ok, sì, quindi la tira fuori da dietro così, non lo sapevo ragazzi, non l'ho mai usato, sinceramente, forse qualche volta come dorso separativo e basta, Spider-Man 0, secondo me, non da non scappare, insomma, anche se ve lo fate scappare, non perdete niente di eccezionale, così come la lascia abbastanza bruttina, 800 di bar, qui ringomina, anche questo abbastanza bruttino, per dirla tutta, zucconi dietro alla schiena, così così, e quindi lasciamoci lì, qui nello shop, sentiamo che rumore fa invece i piccoli e zucca, insomma, 800 di bar, anche questo, non è niente, niente di speciale, che trafano i goblini, qua se si sta su, raga, è carino, è spesso diventa l'interplano come, come allianti, diciamo, 800 di bar, è nata, non costa niente tanto, bando di Nick Fury, invece doveva arrivarci, la skin, la, lo zainette con le pistole, dietro alla schiena, il logo del, non mi ricordo come si chiamano loro, l'ascia, è molto, molto carina, il dataplano invece, vediamolo un po', si sta sotto, così così la schermata di caricamento, è lui, sull'aereo, insomma, il portone aperto, soltanto la skin, il 5, 800 di piccoli, 800 di tablano, cioè il bando di Lattevi, 2200 di bar, skin, zainetto, la skin ha due stili, raga, predefinito e illustrato, come idea, poi la resa non mi piace molto, piccoli, stessa cosa predefiniti e illustrati, fanno due suoni diversi, raga, poi il deltaplano, predefinito, è illustrato, qua si invece fa lo stesso, lo stesso suono, mille cifra skin, 800 piccoli, 800 in deltaplano, questi bando li abbiamo già visti ieri, il bando reale di Billie Eish, la skin Nike vittoriosa, le skin di Avatar, poi abbiamo Alien, Alien ancora, Tartroghe Ninja, Tartroghe Ninja, poi il bando apprendimento automatico 2004, abbiamo la già vista gris di qualche giorno fa, si aggiunge la skin maschile errante, che praticamente è la stessa cosa, personalizziamo un secondo per farvi capire cosa si può cambiare, cosa non si può cambiare, la presa è la stessa, a chi piaceva le skin maschili, è meglio della skin, appunto, femminile, e viceversa, raga, ci danno anche tre wrap, la prima luce scala, la seconda proto, onda, e la terza circuito, chiuso, il suo beppa, è questo qui, è lo strumento di raccolta, taglia codice, non mi ricordo, se c'era già, però, anche qua, si è personalizzabile, in più, in più stili, e non è male come piccone, soltanto la skin viene fuori 1.500, soltanto il piccone, 800, poi c'è sempre 1.500, ma l'abbiamo vista, praticamente, tre giorni fa, sfoggia copertura, raga, c'è viridescente, 300 di bacchi, inutile dire, che è una bella, una bella wrap, vediamo, abbiamo, ci sta una cifra, secondo me, e poi abbiamo quella militare, anche, carina, e questa qua, 0, radioso, pure, non è niente male, flusso angolare pure, ci può stare, poi abbiamo, mando la squadra blu, non so, dovrebbe costare 2.000, 2.000 vivac, ci danno, succo ospiratrice, che è una delle mie preferite, raga, con il cuore blu dietro alla schiena, poi abbiamo un professor succo, con il suo oggetto, cosa per fare il frullato, lascia, gocciolante, io ho questo solo qua, la wrap, sloop, carina anche questa slavra, questa wrap, è un strumento, ed è questo l'effetto che si hanno, che sia sulle armi, soltanto le skill 1.500 e 1.500, ok, quindi il bundle costa un po' di più di 2.000, 2.200 v-bac, ah, 800 v-bac, poi disossato, 200 v-bac, che secondo me hanno sbagliato a metterlo, come ieri hanno messo il banco, appaggiano su queste note qua, che non c'entra niente con sto bundle, forse la dobbiamo mettere la wrap singola, poi abbiamo Fenix, 1.200 v-bac, che non si vedeva da un po' nelle vostre oggetti, con il zaino colpino dietro alla schiena, 1.800 v-bac, invece abbiamo spacca fuori, la sua holo albor, albori dietro alla schiena, i clicconi, questo sono qua, il dietaplano, che è questo robot qua, che si apre, cuore trasformerla, l'avrà, rosso acceso, la schermata, che è abbastanza carina, e soltanto la skin, 1.200, 500 piccoli, 800, dietaplano, 1.800, tutto insieme, poi bundle frontiera, con la drone, questa è la skin, che io sto aspettando da un strappo di tempo, ma non so se se in giro, riuscire a scioparlo, la valutiamo, perché spendere altri soldati, non mi va proprio il suo beh, con la pistola, e borraccia, o granata, la versione maschile, pioniere, lui pure, stesso designetto, però disposto in versione diverse, e due asce, come i picconi, e questa non sono decisamente più bella, raga, e poi la loro rap, invece, diciamo, camicia quadrettata, super classica, 1.200, le skin 500, il 500, i due piccoli, le armi sono quelle maia, nuovo balletto, tasti, a razzo, 500 v-back, ecco, si lancia la, la tastiera, poi le tracce già infinite, e tutti, vedete le pacchette, la raga, mi raccomandovi, supportare il canale, il codice creatore è sempre attivo, noi ci vediamo in live, dalle 11 di la mattina, si va di venire a giocare, like, se non l'avete messo sul DCO,